Sarebbero una trentina le conversazioni intercettate tra le boss della mafia Franco Rina e il capo dei capi della Sacra Corona Unita, Alberto Lorusso. Fino ad ora ne sono state depositate sette, tutte registrate tra ottobre e novembre del 2013 nel carcere milanese di Opera, dove i due sono detenuti. A parlare è Totò Ucurto, che si rivolge a Lorusso e gli parla del progetto di un nuovo attentato alla PM di Palermo Di Matteo, che rappresenta l'accusa nel processo per la trattativa Stato-mafia e che vede tra gli imputati proprio il boss Corleonese. Facciamogli fare la fine del tonno, facciamola grossa e non se ne parli più. Il boss quindi non ha deposto le armi, anzi, con un cenno della mano fa un segno, come a dire facciamola in fretta a questo attentato. Questo Di Matteo non se ne va, gli hanno rinforzato la scorta e allora se fosse possibile ucciderlo. Rina prende spunto da un'altra strage, quella del magistrato Chinnici del 1983. Quello là saluta e se ne saliva nei palazzi, ma che disgraziato sei, saluti e te ne sali nei palazzi. Poi è sceso disgraziato, per un paio d'anni mi sono divertito, minchia che gli ho combinato. Dobbiamo prendere un provvedimento per voi altri, uno che vi fa ballare la SAM e che vi fa salire e scendere dai palazzi, come vuole, come fossero formiche. Poi se la prende con l'attuale boss della mafia, Matteo Messina Denaro. A me dispiace dirlo, sottolinea. Questo signor Matteo Messina Denaro, questo che fa il latitante, questo si sente di comandare, ma non si interessa di noi. Questo fa i pali della luce, riferendosi al business dell'energia eolica in cui Denaro è coinvolto. Ci farebbe più figura se si le mettesse in quel posto, aggiunge Rina. Rina sogna il suo ultimo grande attentato, dice che sarà più grosso, simula il botto di un'esplosione e poi aggiunge, non devo avere pietà di questi, come loro non hanno pietà.